Don Alessandro, l'ufficio Migrantes continua a organizzare iniziative per abbattere le barriere della disuguaglianza sociale. Prossimo e imminente appuntamento è previsto per domani sera al Masetti. Esatto. Alle 21.15 trasmettiamo il documentario Tantan Basket che narra la storia vera di una squadra di basket che è stato ideato a questo progetto dal ex giocatore di basket di Serie A, nonché anche nel 1975 giocatore della Nazionale di Basket italiana, nella zona di Castelvolturno. Una zona particolare perché ha il più alto numero di immigrati e poi siamo anche in una zona dove è molto frequente lo sfruttamento lavorativo, tanti problemi di inclusione sociale, di emarginazione. E quindi è un progetto che si pone proprio per dare ai figli degli immigrati la possibilità di, attraverso lo sport, di vivere l'inclusione sociale, soprattutto di poter evitare che possano essere utilizzati, sfruttati, a volte in canali in cui cade chi non si trova in situazioni o regolari dal punto di vista dei documenti, oppure visto la difficoltà che si vive in queste zone con alta incidenza anche di criminalità. Sarà presente alla proiezione e al dibattito che seguirà proprio Massimo Antonelli che ha accettato l'invito di essere con noi e con questa iniziativa Tantan Basket, appunto ideata da lui, ha avuto una storia molto particolare perché dopo che lui ha organizzato la squadra, a un certo punto si sono visti negare l'iscrizione al campionato dilettantistico regionale perché la squadra conteneva un numero di giocatori superiori a quello consentito dai regolamenti. Grazie all'interessamento di un politico che sarà intervistato, si vede nel documentario, è stata fatta una norma DOC che porta proprio il nome della squadra Tantan Basket per superare questa difficoltà, cioè che i minori, figli di immigrati, anche se non hanno il permesso di soggiorno, possono essere iscritti nelle società sportive dilettantistiche. E parte di ricavato sarà devoluta in beneficenza? Sì, proprio alla squadra perché la squadra si regge con le libere larghezioni, con le donazioni. C'è da dire che la squadra non soltanto offre la possibilità dello sport, ma c'è anche un'opera di sostegno individuale e comunitario a livello psicologico per i ragazzi che ne hanno bisogno. Questa iniziativa si pone in quel tema che noi come migranti, se quest'anno abbiamo voluto toccare, su cui accendere i riflettori, che è il problema degli immigrati, dei figli di immigrati di seconda generazione, quindi nati in Italia, che sono arrivati in Italia piccolissimi e che non hanno la possibilità di accedere con facilità alla cittadinanza.